Iniziamo la presentazione del libro La prima della presentazione noi proietteremo il video dell'ultima intervista fatta da Enzo Biaggi a Giuseppe Fava intitolata Vi spiego cos'è la mafia in pratica Giuseppe Fava spiegherà brevemente cosa in realtà è la mafia cos'è la mafia all'interno del tessuto sociale della nostra nazione e poi della Sicilia Subito dopo passeremo alla presentazione di Luciano, di Riccardo Rioles e faremo anche una brevissima presentazione dopodiché inizieremo questa intervista subito dopo o anche contemporaneamente potete anche intervenire per fare domande direttamente all'autore e a Riccardo